Un saluto a tutti da Edoardo Ferrara di Trebi Meteo. Capita spesso che in giornate piovose abbiamo a che fare con il fastidioso fenomeno dell'appannamento dei vetri. Questo succede perché quando l'aria è ricca di umidità il vaporacqueo appoggiandosi su superfici fredde condensa la propria umidità in minuscole goccioline d'acqua che diventano quindi visibili ai nostri occhi con l'effetto appunto dell'appannaggio del vetro. Non di rado appunto capita in giornate fredde e piovose quindi non basta solo umidità ma anche temperature basse e soprattutto in abitacoli affollati come gli autobus o i treni o anche le nostre macchine proprio perché respirando immettiamo ulteriore quantità di umidità nell'ambiente interno. Quindi ci si può chiedere qual è la situazione migliore per spannare il vetro se è meglio l'aria calda o quella fredda ebbene è meglio decisamente l'aria calda perché l'aria calda scaldando la superficie interna del nostro vetro favorisce una nuova rievaporazione delle goccioline d'acqua. Molti ci chiedono ma l'aria condizionata può essere utile o meno? L'aria condizionata va bene purché però non sia fredda perché un'aria condizionata comunque fredda mantiene bassa la temperatura del vetro e quindi diciamo l'effetto di spannamento è più lento. Invece può essere molto utile l'aria condizionata calda perché oltre essere a temperature elevate eppure secca quindi diciamo favorisce uno spannamento più immediato. Ovviamente un'altra soluzione può anche essere quella di essere in meno persone possibili quindi magari di scaricare i passeggeri. Comunque a parte gli scherzi aria calda e secca è il miglior rimedio per spannare più velocemente il vetro. Con questo è tutto aggiornamenti in tempo reale sulle previsioni di pioggia della vostra località scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.